E si muove da un colpo di telefono. Ah, sì. Questo colpo di telefono scalo cinque schiaffi. Eh, questo mi pare giusto, mi pare proprio giusto. Stavamo a 3970. Sì, allora ce ne rimangono quanti? Meno cinque. Stiamo a 3964. Ne stai fregando uno, 65. Come ti metti? Mo' stiamo pari. Grazie, ispettore. No, grazie a te, Eus, è stato molto gentile, Edventice. Ciao. Ciao.